Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo un prisma in vetro flint. Il vetro flint è un vetro molto denso, è un vetro pesante ed è utilizzato spesso per fare esperimenti in fisica e anche per produrre lenti doppietti o tripletti acromatici per la correzione delle aberrazioni. Qui vediamo questo prisma utilizzato per vedere lo spettro della luce, per vedere l'arcobalino. Il fenomeno si vede bene appunto perché questo prisma, questo materiale, questo vetro di flint ha un indice di dispersione particolarmente elevato, un indice di rifrazione. Qui vediamo appunto questo prisma. Vedete che cambiamo l'inclinazione, si vedono i vari colori dello spettro. Vediamo il rosso, vediamo assolutamente il blu. Grazie per averci seguito e vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale. Buona giornata. Grazie a tutti.